Sono le pareti domestiche le prime testimoni dei tormenti di una famiglia. Questa volta la storia di Botte e Soprusi giunge da un appartamento dei Colli a Minei, un quartiere bene vitale della città di Napoli, a raccontare i brutali episodi, un catalogo dell'orrore lungo 365 giorni, un campionario di violenze raccolte in un CD, foto dei colpi, dei lividi, uno scatto per ogni reazione del compagno, macabro album dei ricordi del 2023. E come se non bastasse, il suo ex tenta un nuovo avvicinamento, il rifiuto di lei e lui la segue fino a casa, lei lo lascia entrare per evitare scenate in pubblico. Al rumore della porta chiusa si è sovrapposto quello delle botte, calci, pugni, senza pietà, la donna vomita e sviene, testimone, sua madre. I carabinieri arriveranno poco dopo e accompagneranno la vittima in ospedale, 40 i giorni di prognosi, l'uomo è stato arrestato. Per maltrattamenti atti persecutori ed è ora in carcere in attesa di giudizio. Nel fascicolo confluiranno anche le terribili immagini scattate dalla vittima dopo ogni pestaggio.